Da quando sono piccola amo il nome Marzia Vorrei chiamare la mia futura figlia Così ma per tutti è un nome strano E non piace a nessuno La zia della mia che si chiamava Marzia Per me non è un nome strano Un nome particolare Grazie per gli otto Grazie mille Chi cazzo è che sta bemmando sul TG1 Toto chi è Non Giulia Cechet Ma dai non è vero Stavano facendo un servizio Sulla deficienza mentale di Tiktok Scusami Ma se me lo fai vedere così Ma il contesto Ma qual è il contesto però Stavano facendo vedere la stupidità delle persone su Tiktok Immagino scusami Cosa significa Deve avere avuto un contesto sta roba Sennò scusami Ma non sto dicendo Non è capito Non è quel punto E che deve aver avuto un contesto Non questo che il TG1 si apra Prima immagine è questa Si sarà stato un contesto Per cui è uscita questa immagine Se no che cazzo significa Scusami così non vuol dire niente se questo è un uovo questo è un Führer palesemente non un uovo è un Eggler un Hitleg ma Naomi è il suo vero nome? no no è il suo vero nome Naomi si chiama Naomi Desiree ha due nomi solo che Desiree non gli piace quindi si è tenuto Naomi lo so due nomi strani però è un Hitleg come cazzo lo vuoi chiamare Harry Potter e la Camera oggi siamo on fire con le battute su quel straordinario periodo se corri nudo la velocità intorno all'albero c'è una piccola probabilità che di auto incularti ci ho provato tante volte non riuscivo ad aggiungere 185.99 miglia al secondo eh lo so mi rendo conto però fidati ci ho provato ma auto incularsi deve essere un'esperienza interessante non è che la birra non può risolvere tutto sì che può l'alcol aiuta sempre a risolvere delle dispute senza arrivare alla violenza fisica quindi un biglietto un euro due biglietti due euro cinque biglietti cinque euro dieci questa offerta è straordinaria sono già pronto a procedere ne prendo dieci mi pare la più conveniente come offerta direi secondo me cerco gotica culona poldo cocodrillo poldo 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 perché poldo da quando cerchi le gotiche culone eh cos'è questa passione che ti è venuta capisco per le gotiche perché evidentemente le gotiche attizzano qualsiasi cosa anche le cose inanimate attizzano le gotiche però le perché culona spiegami un attimo poldo devo capire come funziona latte normale ma questo non è latte vegano questo non so se definirlo esattamente latte vegano ma è più latte animale anche quello poi prodotto in una certa maniera ma beh che nel suo caso dovrebbe essere al cioccolato ma comunque che tracollo come aff parcheggio perfetto come affatto non ho idea però ammetto che vedendolo così devo dire mi sento quasi affascinato dall'immagine che sto guardando in questo momento Kevin grazie per gli 11 ragazzi ragazzi io sarò sincero con voi so che penserete che non sono normale ma io ho sempre sognato di parcheggiare l'auto sul tetto di una casa così perché secondo me deve essere stracomodo cioè letteralmente puoi salire in auto uscendo dalla tua camera da letto non devi neanche scendere le scale è comodissima io proprio vorrei il parcheggio dell'auto in casa sai com'è comodo non in garage proprio in salotto sai com'è com'è pratico fai molto prima io che sono team pigrizia meno cose faccio meglio sto Steven Seagal morirei per put Steven ti voglio bene adesso c'hai 500 anni hai preso i 200 kg ma che cazzo se ridi sei una brutta persona quindi io sono una brutta persona Andrea spendo l'ultimo euro che ho sulla carta per picchiarti hai iniziato il reddit troppo tardi oggi per ricordarti la cover come sempre e per dirti che la mia ragazza è ancora offesa dai bacini omosessuali di settimana scorsa ti si vuole bene non mi devi fare incazzare ricordati che abbiamo una relazione gay ma mi stai facendo incazzare io mi ricordo benissimo delle tue cover settimanali quindi non ti devi permettere mai più di dubitare quelle le conoscenze che io ho e le memorie che io ho te lo dico mi offendo non te lo do guarda che non te lo do per una settimana ci sono già le ville che ti portano la macchina direttamente in camera da letto bellissimo lo voglio cazzo bellissimo stupendo Dennis cazzo di 14 ma no scusami che carino che amore guarda che mia nonna ha risolto così la scogliosi te lo dico anche così si può risolverla poi senti non è che sono solo io anche no mi sta lentamente impazzendo ma no mi sta ragazzi no mi sta impazzendo male cioè l'altro giorno in macchina mentre guidavo lei era seduta dietro è scoppiata a ridere ma a ridere forte cioè ma non per dire è scoppiata a ridere perché si è immaginata di darmi un calcio al sedile e farmi finire di testa contro il vetro dell'auto ed è scoppiata a ridere perché gli ho detto hai passato troppi anni con me otto anni con me otto anni con me si vedono stanno stanno dando i loro frutti otto anni con me si vede che si vede che insieme stare troppo tempo con me ti ha plasmato aspetta a ridere mi piace devo andare a vezzo vacca interessante come proposta non male, specialmente per le castagne immagino siano nelle mignotte se no che gusto c'è a mangiarle se non le estrai direttamente da lì quindi voglio dire il tizio qui si sente coraggioso me sono sbagliato perché io non chiedo mai scuso me fuck si è più o meno così mi sento fermo in realtà è così è il classico giro della frittata da cui il mio esempio che vi fece tempo fa spiegava perfettamente come funzionava una relazione uomo-donna in dei peperoni grazie per i due anni la relazione uomo-donna funziona così e questo esempio chiarirà o dissiperà ogni dubbio un uomo rompe una lampada in casa, la donna gli dice che è un deficiente l'uomo dice hai ragione chiedo scusa una donna rompe una lampada in casa l'uomo dice sei una deficiente la donna dice perché mi offendi mi tratti sempre male ti sembra questo il modo di fare l'uomo chiede scusa ore papera ecco è così ciò con te grazie mille per i 30 eurini badatino grazie mille di cuore grazie mille di cuore per i 30 eurini ti metto a 90 e ti arolano violentemente a colpi di cazzo grazie mille grazie mille per i 30 eurini badatino grazie mille di cuore ti mando un bacino grazie mille perché è cambiato browser perché chrome è esploso quindi c'è un dottore io sono un dottor allora mi aiuti sono un dottor dello studio gender l'ho visto a negare oh mio dio merda ragazzi l'altro giorno su tiktok l'altro giorno su tiktok ho visto una protesta degli studenti che manifestavano fuori dall'università a favore dell'aborto e fino a qua in realtà va benissimo perché io sono a favore dell'aborto va benissimo il problema è che la ragazza che aveva il microfono in mano a un certo punto a un certo punto fa noi studenti siamo qui io ho messo in pausa il video e ho cominciato a ridere era salvo io non sono più riuscito ad andare avanti col video studento oh mio dio che disagio mentale ma provete era no perché studenti che cazzo è maschile quindi sei misogeno di le donne mi ha fatto un sacco ridere studento faccio faccio marina finire l'esercizio di anali del periodo professore ho capito sono stanco però cioè allora ieri ho dovuto inculare la bidella la preside l'insegnante di sostegno sua nonna cioè voglio dire non dice essere un attimo stanco non è che cioè ho il cazzo un attimo arrossato voglio dire un attimo di fissan e se no che fatica cioè non è che gotti i grassi 25 malattino le donne come fanno infatti lo prendono vabbè va bene così è uno spider-man attaccato al cazzo vabbè vabbè spider-cazzo vabbè vabbè lo stesso è pur sempre un un bambolo gonfiabile questa la conosco molti hanno detto che è vera io non ho capito se quello che ha fatto il doppiaggio abbia seriamente pensato che una che quello che ha fatto il doppiaggio abbia seriamente pensato che i cuochi italiani bestemmino a volte non ha non ha capito cosa stava doppiando ma ma mi sa che questa cosa è vera sai mi sa che è vera io ti dico vabbè non so che ti dica no no è accurato effettivamente che non funziona se c'hai provato c'hai provato tu un tentativo l'hai fatto poi non è che devi stare a darti delle colpe che non hai un tentativo l'hai fatto non funzionano come le seppie a quanto pare il geologo che prende su le sue cose dopo essere stato licenziato che stronza che stronzata che stronza che stronzato mio dio hasta la cadrega sie vai Giacomo no Giovanni scusa ma avete bevuto ieri vero noi non avete bevuto ieri vero vai Johnny prendi la pallina vai merda che male merda che male ma che mentata la pallina vai ma no merda che male ma questo si è svitato le gencine pallina vai ma non così papà sono a stegno ma questo si è fatto malissimo questo si è fatto malissimo secondo me ha perso 42 denti su 32 mi è spriciolato il mento come immaginiamo come immagini i giocattoli prodotti dell'attuale governo se vai a lavorare questo farà di te una cattiva madre resta con me si la tua prima aspirazione deve essere quella di diventare madre con quale voce tra l'altro se vai a lavoro piango questa è vera emancipazione il mio unico significato sociale è quello di diventare mamma le femministe hanno i capelli blu una donna forte e una mamma le femministe hanno i capelli blu la bambola del patriarcato che ti insegna il tuo vero scopo nella vita oh mio dio che poi io posso dire una cosa magari magari sono strano magari sono strano io però secondo me voglio dire alla fine non è poi neanche così orribile fare la mamma in casa cioè se ti deve andare non lo so perché ultimamente lo stanno dipingendo come una cosa demoniaca vabbè ma alla fine se hai un rapporto saldo con il tuo partner fare il genitore casalingo in casa secondo me non è una cosa così traumatica che poi è una cosa che può accadere per entrambi i sessi in realtà perché io ho un amico che il padre ha smesso di lavorare perché la mamma guadagnava un sacco e quindi faceva il mammo non lo so cioè alla fine voglio dire se uno gli va non capisco il trauma incredibile però la voglio la voglio la voglio la bambola del patriarcato perché Haru no vabbè se è una tua scelta dico se vuoi farlo tu nel senso non è che è un obbligo ovviamente ho caldo ho mal di testa la mia voglia di vivere sta lentamente scemando sempre di più ogni giorno sia mai che schifo ma Haru allora tu non devi fare così perché Haru tu saresti un'ottima mamma io ti ci vedo a fare la mamma saresti un'ottima mamma con i figli picchiati con la cinghia appena dicono ciao perché ti fanno schifo i bambini saresti tu secondo me saresti un'ottima mamma e invece ti ci vedo anche guarda non ho capito come saresti il genitore non ho idea non ti saprei dire perché in che contesto dipende in che senso cioè nel senso se tu sarai una scena la battuta sarai che carina mi hai detto io mi sono scoperta non monogama come l'hai capito mi sono scoperta non monomera sicuramente sono state più cose durante la maggior parte delle relazioni che ho avuto nella mia adolescenza e prima giovinezza ho quasi sempre tradito l'altra persona va bene ok come più o meno fanno quasi tutti poi iura grazie ed era una cosa che mi faceva stare molto male ma non comprendevo il perché non riuscissi a stare all'interno di una relazione senza cercare qualcosa altrove perché ero un adolescente gli adolescenti non sono in grado di instaurare relazioni durature nella stragrande maggioranza dei casi essendo adolescenti non avendo nemmeno finito di sviluppare il cervello di conseguenza è più la voglia di scopare che la voglia di innamorarsi quindi cerchi dei cazzi extra perché non hai voglia di tenerti solo uno non è molto non hai scoperto l'acqua calda hai scoperto l'acqua calda sorella letteralmente le relazioni di due ragazzi che si sono fidanzati sotto i 14 anni quelle che vanno avanti per più di 10 saranno il 10% 20 ma a dire tanto 10-20% quelli che stanno insieme da quando avevano 14-13 anni ma a dire tanto a dire tanto pizzo grazie per i due patatino è che per lungo tempo mi sono convinta di non poter avere relazioni di non essere in grado come se il mio desiderio di scoperta sessuale fosse da reprimere fosse sbagliato man mano che mi sono avvicinata al femminismo ho iniziato a studiare il femminismo ho scoperto anche le non monogamie perché serviva il femminismo e serviva il femminismo iami grazie per gli otto patatino ma scusa ma è una roba che ma scusa ma non è una cosa nuova ma esistono a 2000 anni ma scusa ma non è una novità questa cioè è da 2000 anni che esistono le coppie aperte tu l'hai scoperto adesso ma scusami ma come ma letteralmente ma 2000 no ma di più ma saranno 4000 anni ma scusami ma in che senso il femminismo non si occupa solo delle donne ma si occupa di tutte le minoranze e le comunità marginalizzate ah si tra cui appunto le persone che escono da quello che è il sistema cis eteronormato per cui anche le persone non monogame ma che cazzo c'entra ma che cazzo c'entra essere cis etero con trombare con tanta gente non ho capito ma no che studiavo mi riconoscevo sempre di più all'interno di questo tipo di relazioni dicevo ma allora non ero sbagliata semplicemente non conoscevo questa possibilità ma beh c'hai voglia di cazzo ma perché devi articolare tantissimi termini per dire hai voglia di cazzo scusami ma non fai breve ma poi mi è successo anche quando ho scoperto di essere bisessuale perché viene raccontata l'eterosessualità come normalità come dicevamo prima e quindi non pensavo ci fossero altre possibilità beh c'hai voglia di cazzo ma scusa ma perché perché questa complicazione incredibile per definire perché la gente ha bisogno delle etichette perché sono ragazzi perché ah non è strano sono ragazzi i ragazzi hanno bisogno di etichettare ogni cosa perché sono ragazzi nel senso quando ero ragazzo io c'era il metallaro il black metallaro il death metallaro l'heavy metallaro il rocchettaro l'hard rocchettaro cioè noi etichettavamo qualsiasi cosa anche col minimo cambiamento eri immediatamente etichettato e sono cambiato le cose che etichette perché complicarsi perché sono ragazzi i ragazzi hanno bisogno di identificarsi adesso io non parlo della sessualità che quella è una cosa personale non c'entra però in linea di massima l'eticettatura è una cosa che i ragazzi hanno sempre fatto per cercare di definire la propria persona al di là del genere dico in generale quindi non è una cosa anomala non capisco però questa complicazione per dire avevi voglia di cazzo avevi voglia di cazzo ti piaceva scopare fine non c'è nulla di male non c'è nulla di male uno può essere poligono non c'è mica nulla di male ognuno nella sua vita fa quello che gli fa si ha detto che è bisessuale ma infatti io non parlavo di quello quello non è un'etichetta quello lo sai non lo sai io parlavo di altre cose diciamo vabbè scusa che male c'è sei poligona ti piace scopare con tanta gente vabbè buon per te che cazzo che cazzo cos'è questo cos'è questo casino incredibile oddio santissimo di che colore ha il vestito suo è una femminista secondo te io sono rimasto eccitato da una femminista ti sembro forse pazzo per caso ti sembro forse uno che rimane eccitato da una femminista con il caschetto sei impazzito completamente voglio dire sei impazzito completamente poligono no poligono poligono mi trovo la voglia di cazzo vabbè ma secondo me sì scusami ma voglio dire alla fine se tu da ragazzino fai le corna perché perché vuoi scopare ma non capisco perché non capisco perché bisogna idolatrare le relazioni da ragazzini da ragazzini le relazioni sono relazioni cioè dai ma dai da ragazzini è una relazione ti metti con uno vuoi essere il mio fidanzato sì no dopo due settimane ti rompi le palle se durano due mesi è un miracolo ma dai da ragazzini hai voglia di divertirti che è il motivo per cui io non mi sono mai voluto fidanzare prima dei vent'anni né o mai non giustifichiamo il tradimento ma vabbè ma sì d'accordo vabbè ma non so come dire il tradimento ma 15 anni il tradimento cioè non mi sento neanche di puntare il dito però nel senso boh cioè no tu 24 anni sei un pochino più cari ragazzini ti stacco le palle ma dai ma scusa ma tu veramente veramente paragoneresti il tradimento di un quindicenne a uno fatto da un trentenne ma dai cioè veramente puntereste il dito violentemente contro un quindicenne cioè voi vedendo un quindicenne che tradisce sì vabbè è un tradimento vabbè ma è un quindicenne dai cioè ma poi ma non è ma dipende aro dipende cioè uno può anche crescere e maturare cioè nel senso io non penso che la concezione che abbia un quindicenne di una relazione rimanga uguale cioè dai voglio dire uno matura capisce nel senso cioè boh secondo me puntare il dito contro uno di quindici anni perché fa una stronzata boh cioè io penserei vabbè un ragazzino cioè un conto si ammazza qualcuno quella è una cosa gravissima vabbè ma lì c'è un disagio psicologico sicuro che si porterà in età adulta però per una roba così boh non mi sento non mi sento di essere aggressivo nel giudizio non lo so sì no vabbè ma d'accordo ma non sto dicendo che è giusto ferire gli altri sto dicendo che le cose che dici a quindici anni che fai sono da quindicenne cioè ma no ma se un ragazzino fa un casino lo scusi con un ragazzino e dipende dipende cioè ad esempio ad esempio alfa io quando avevo diciotto anni mi sono ubriacato a bestia con i miei amici in casa e abbiamo vomitato nel terrazzo di quella di sotto abbiamo vomitato nel terrazzo di quella di sotto però avevo tipo diciotto anni cioè se lo fa uno di quaranta penso che sia più grave di uno che di diciotto io sono sempre stato dell'idea anche a quindici anni che prima di scopare con qualcun altro devo lasciare il primo è più una questione di formamenti secondo me no ma fai benissimo ma io non sto giustificando il tradimento ragazzi non sto dicendo che tradisca o non tradisca è la stessa cosa sti cazzi sto dicendo semplicemente che è meglio non tradire fin qui siamo d'accordissimo sto dicendo però che se una stronzata la fa un quindicenne boh cioè dipende dalla stronzata però non mi sento di paragonarla a un quarantenne che fa la medesima cosa non saprei cioè non ce la faccio non mi viene perché un quindicenne cinque anni fa andava all'elementari ma che esperienza e maturazione vuoi che abbia cioè un quindicenne si sta affacciando ora al periodo delle stronzate quarantenne le ha finita da quindici anni le stronzate nel senso boh non lo so sì no ma lo so che ferisce anche a quindici anni Fabio ma sono d'accordissimo non sto dicendo che va bene che i quindicenni tradiscano sto dicendo che se un quindicenne tradisce nel senso magari non lo fa neanche con una concezione di cattiveria o egoismo magari lo fa perché essendo un quindicenne e non ha nemmeno il cervello completamente sviluppato e no non lo dico per dire perché il cervello finisce di svilupparsi intorno ai trent'anni ragazzi quindi non lo dico per lo dico seriamente siccome ha un cervello ancora molto sottosviluppato per alcune cose che possono riguardare mi pare il lobo prefrontale le emozioni la gestione di alcune cioè quindi non lo so poi è chiaro che se mio figlio di quindici anni mette le corne alla fidanzata lo sgrido perché gli dico che sono cose sbagliate da fare perché se qualcuno lo facesse con lui si sentirebbe di merda e non è giusto fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te è chiaro che lo sgriderei però mi rendo anche conto che ho un quindicenne che cazzo lo cazzerei però è pur sempre un quindicenne nel senso non mi verrebbe da non so come dire da dire sei una testa di cazzo ma come cazzo sei messo alla tua età a fare queste cose come cazzo sei messo non capisci un cazzo cioè quelle frasi lì quelle frasi lì no che dici ma come cazzo sei messo alla tua età a fare ste cose ma sei un demen cioè quelle cose lì non è che le puoi dire erano quindicenne perché nel senso quindi poi tra le altre cose c'è anche da dire che comunque voglio dire i pali so che sembra brutto lo sto dire però ragazzi i pali possono aiutare ragazzi i pali e le cose brutte della vita aiutano aiutano perché una persona che è stata tradita e sa cosa si prova è meno probabile che tradirà perché sa quello che si prova quindi o una persona che comunque ha vissuto una certa esperienza si rende conto meglio delle situazioni perché le ha vissute quindi se proprio volessimo essere cinici al massimo diciamo che le brutte esperienze ci formano abbondantemente per la ad esempio io quando avevo 15 anni ero strainvaghito di una ragazza che però era molto una profumaia era una di quelle che compensava il suo ego avendo dei ragazzi che le sbavano dietro ma non gliela smollavano mai io ho imparato da questa cosa come funziona però prima ci ho dovuto sbattere la testa cioè quando ti ho sbattuto la testa ho imparato perché io a differenza di molte altre persone che secondo me sono idiote io imparo dagli errori che faccio io gli errori che faccio li imparo li accetto me li segno e divento più bravo di quanto ero ieri quindi io ho imparato da questa cosa e avendolo imparato ho capito quali sono le persone da evitare però se non l'avessi subita questa cosa non sarei mai diventato più forte di quanto ero prima quindi in realtà le brutte esperienze possono anche fortificare una persona e aiutarti nella vita di tutti i giorni a destreggiarsi nella maniera più efficiente possibile quindi no ma non ho detto che il tradimento è giusto ho solo detto che un ragazzino è un ragazzino cioè non so come ragazzino è un ragazzino cioè non so come dire nel senso a parte il fatto che poi il tradimento dipende anche da cosa è successo perché anche lì dipende qual è il contesto cioè litigate tutti i giorni da sei mesi ma non vi lasciate cioè vabbè comunque per dire quindi per l'amor del cielo però stavo dicendo che boh per me un ragazzino non è un adulto quindi non lo giustifico però non è un adulto quindi boh cioè io la vedo per quella che è chiaro o no ragazzi per chi non lo saprasse se non lo saprasse e allora quando pioverà pioverare pioverare io dal ricevere pali ho imparato una sola cosa questo rende dislessico pure setto finta di essere omosessuale quando una ragazza ti guarda troppo se no rischi di andare al fresco ora non conta niente perché dico che ho Roberta ma ai tempi delle superiori ho letteralmente rischiato solo perché guardavo una ragazza non alle tette o al culo o in parti sozze ma solo perché la guardavo in faccia e le dicevo ciao in amicizia poi è vero che siamo a Modena e la gente è pazza di base Manuel ti devo fare una confessione però Manuel vieni qui vieni qui Manuel devo farti una confessione le uniche ragazze che non apprezzano un uomo che gentilmente prova a rimorchiarli sono le inacidite femministe io ho 13 anni e mi sto tra virgolette sentendo con una tipa e l'unico pensiero che abbiamo entrambi è quello di scopare e abbiamo perso la verginità entrambi continua fargliela tornare e poi fargliela riperdere è molto divertente le uniche ragazze che fanno così sono le zittelle inacidite femministe non è vero che alle ragazze non piace se un ragazzo educatamente ci prova con loro non è vero che alle ragazze non piace se un ragazzo si offre di pagarle la cena non è vero che alle ragazze non piace se un uomo cerca di essere galante non guardare tiktok è una bugia è una menzogna non devi guardare tiktok è una menzogna la realtà è solo questa e continuare a essere così per sempre per i secoli dei secoli cioè quando il giorno che piove piove perché? perché l'attitudine di sotto si va a sbattere con l'umidità dello sciocco ti sto seguendo ti sto seguendo si va avanti sciocco è l'attitudine di salire si formula la formula la formula la formula acqua si si ti seguo ti seguo perfettamente si si dello sciocco credo sia scirocco ma va bene anche sciocco noi sciocco per lui è scirocco ma va bene lo stesso per questo piove non è che è Gesù che piange Gesù non piange tutti i bambini che non lo saprassero ora lo sapranno vabbè ho capito però sto cominciando a parlare come sezzo quindi devo smetterla di poverina sezzo la prendo sempre in giro non sapevo non sapevo che certe cose si potessero fare usando il bluetooth devo fermare il video perché temo che youtube mi chiude il canale per pedofilia se vede questo video però si se volendo si possono fare deve avere un pene molto lungo però volendo si possono fare non è che destinazione san san fratello i pumpini migliori li fanno in Sicilia scusi scusi non credo di aver capito bene scusi puoi ripetere i pumpini migliori li fanno in Sicilia a posto ragazzi vediamo un attimo comunque controlliamo un secondo allora dunque vediamo allora voli low cost Sicilia biglietti vediamo allora mica 208 euro va bene che li fanno i migliori però insomma mi sembra un po' caro per uno solo cioè nel senso madonna mia ce n'è uno un biglietto low cost a un po' meno 54 euro vabbè questo ci può anche stare non è che va bene va bene mi signo tutto quindi perfetto perfetto facciamoli insieme dai signorina sono già occupato però intanto mi spieghi come funziona provincia di Messina esiste un paese chiamato San Fratello e proprio qui fanno i pumpini migliori di tutta la Sicilia a San Fratello proprio proprio nel paese proprio va bene un biscotto semplice arricchito dallo strutto e dai semi di anice un tipico vabbè ma cosa c'entra il biscotto scusami ok scusi ma ma è il biscotto che c'entra qui scusi il mio ragazzo è siciliano confermo dolce raffale arricchito da uova simbolo della risurrezione ma chi se ne frega dei biscotti torniamo al discorso principale scusi so già cosa starete pensando un nome bislacco ma il significato non significa nient'altro che fatti in pompa magna vabbè vanno bene anche fatti così io di solito li faccio sui letti ma anche in pompa magna può andare non è un problema e tu hai mai provato a fare i pumpini allora devo dire la tentazione uno magari la tentazione l'ha avuta perché dice esploro la mia sessualità quindi magari scusa uno magari pensa esploro la mia sessualità io sono più di solito un apprezzatore del riceverli che farli ammetto signorina mi rendo conto capisco capisco perfettamente il mio limite io sono più uno che solitamente apprezza riceverli che farli dico la verità però nel senso capisco la sua domanda perché magari uno dice hai mai provato perché prima ti fanno l'atto poi ti offrono il biscotto ah beh 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 giustamente effettivamente oh mio dio descrivi l'america usando ah si la conosco sta storia si 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 lo conosco nell'ottanta l'ho provato completa col mcdonald vendendo un terzo di pound di un burger la produzione fa lì perché la maggior parte dei consumatori pensava che un quarto fosse più di un terzo si 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 lo so noi non mangiamo latticini né uova né carne né glutine così sia di prendere un busco un alca-sel scusami ma che stracazzo ma perché questo cane caga palline? cosa succede? perché il cane sta cagando per lì? si è rotto il cane il cane caga palline cosa succede? è la cacca scia di me anch'io cago così dopo aver mangiato un paio di omosessuali al pride cago sempre arcobalene no? cazzo sarebbe bellissimo ma il pride è un bozzico non vuoi cagli arcobalene cazzo sarebbe bellissimo non mi mordere no invece si ti stacco un braccio appena ti vedo Andrea da padre non abbiamo già visto sto video questo l'abbiamo già visto Shining ma con Alessandro Barbero perché cadde l'impero romano d'occidente? Wendy quali sono i sette imperatori? Wendy Wendy chi fu il successore di Marco Aurelio? eh Wendy Wendy quante coltellate prese Cesare Wendy io non lo so io non credo che tu non lo sai se notassi che un generale romano mostra segni di malessere prima di una battaglia cruciale mostrasse si vabbè ho capito ma l'italiano qui oh non lo sai non lo sappia mostrasse mostra oh ma bene che ma scusi è Barbero l'italiano cosa penseresti di fare io credo che sarebbe giusto farlo visitare da un dottore che stronza la cosa che io presento è sta scena capisco cosa è che gli diceva del figlio nel bel mezzo di una battaglia sicura attenta perché rischi di finire davanti alla corte marziale bellissimo Barbero in versione shining è fatto con la i ma infatti non ho detto che è colpa di chi ha pubblicato il video dico l'italiano della i lo scroto di natale PSI grazie 19 lo scroto di natale ma voglio lo scroto natalizio anche perché io sono totalmente in modalità natale guarda c'è il pandoro l'ho già comprato il pandoro natalizio io sono già pronto a festeggiare il natale ho già preso i pandori thunder grazie per i 34 grazie mille perché hai fatto il pandoro suonamente natale brutti stronzi che è buonissimo ma lo voglio voglio lo scroto natalizio ma totalmente le palle di natale in tutti i sensi grazie per i ciro faccio anche il panettone quindi favorisco anche io in che senso comunque io ecco dove sono cadute le mie palle del capodanno e del natale 2014 ora li recupero amo il succo ace delizioso come quelli che dicono ace per arancia carota e limone bellissimo aveva un amico fermamente convinto che fosse arancia carota e limone che significace le vitamine vitamina A C E buono grazie per i quadro malattino i vecchi i vecchi tempi del e limone non me lo non lo sapevo ma che scusami ma tu mi prendi ancora seriamente alfa non ti devi scusare cazzo chiedete scusi dopo a me io mi sento triste perché voi siete come i miei i miei bebè mi sento triste Setsu cosa Setsu è Setsu arancia carota è il limone ma Setsu Setsu la si ama per quello capito Setsu la si ama esattamente per quello perché perché dice queste cose cioè perderebbe metà del suo fascino se se non se non dicesse quelle cose ma che cazzo è fatto con la i tantissimo ma quindi è questo quello che ha fatto dopo dopo essere dato io dalla Germania ha venduto salsa di soia hai capito bravo vabbè è sempre un business ma che occhio al man ma ti pare mai cartella grazie 25 ma la Dio grazie mi ha il suo business vende vende salsa di soia comunque ci sta terra piatta si vede l'uragano in flor ma che cazzo buongiorno a tutti allora ragazzi che è Giorgio Melone si guardate che cosa vediamo oggi dall'Italia mentre da noi ma è Giorgio Melone dai ma Giorgio Melone lo trolla ma poi già ma poi scusate voglio dire ma scusate ma la gente come fa a prendere seriamente uno che si è chiamato Giorgio Melone Giorgio Melone ma ragazzi la premier si chiama Giorgio Melone ma può essere serio uno che si chiama Giorgio Melone cioè voglio dire è come se una si chiamasse Ignazia Larusso scusami Marco grazie per i 26 ma la Dio grazie mille ma questo trolla tantissimo ma questo lo fa apposta per fare vicino per far incazzare la gente free Hershey un un cono gratis di Hershey quando urli al McDonald ma perché sì ma perché questa 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 strategia di vendita perché sì ma perché questa strategia di vendita esattamente perché cioè a parte rompere i coglioni a tutta la gente l'intorno perché questo è il modo in cui lo facciamo ma è diarrea ma cosa serve la salsa sotto la carta ma poi è è è squar house mi fa schifo mi sembra della diarrea non riesco mi sembra della merda ma non riesco andrea hai dimenticato che siamo uno dei paesi con il tasso di analfabetismo funzionale più alto in Europa tu veramente ti aspetti che la gente faccia ragionamenti di senso compiuto hai ragione hai ragione anche te mi ha dato l'analfabetismo e vabbè voleva la salsa e gli ha dato la salsa quindi vabbè non ce ne è di male voleva salsa e salsa gli fu data dio e l'acqua ti prego dio posso avere un po' di acqua no sicilia te la darò quando sarà il momento e quando progetto divino misterioso ti prego 187 basta sicilia più insisti e più ne do all'Emilia Romagna adesso ho capito qual è stato il problema ha sbagliato le dosi vabbè ora ho capito il senso del problema che c'è appena stato voleva extra 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 salsa ora mi spiega nudo Stitch politicamente scorretto Rana significa famiglia famiglia significa che mi sono devi lasciarmi parlare stronza pure brutta sai cosa fa un nero cattivo viene abbandonato già caccio guardia ora ho bisogno di tutto Stitch fatto così che stronzato mio dio il mistero del congiunto questa lo vidi una vita fa Harry non facciamo stronzati sono stupid siamo qui dentro da mesi ho finito tutto il catalogo Netflix e su Disney Plus non c'è un cazzo presumo sia il periodo della pandemia Clos grazie per i due scusa di portare fuori il mio animale domestico mi sono lievitati i coglioni ok che bel periodo la pandemia cioè l'Humbridge è più odioso di Voldemort posso dire ho odiato più l'Humbridge che Voldemort quando ho visto Harry Potter in realtà all'epoca non lo capimmo neanche noi cioè fu una cosa fu una cosa molto strana anche per noi effettivamente potete visitare un congiunto e che cazzo è un congiunto effettivamente all'epoca neanche noi lo capivamo che cazzo è un congiunto un amico un parente deve essere deve avere un legame scritto tipo moglie oppure va bene anche se è un fidanzato che cazzo fuori nel congiunto e lui non lo so esattamente è uno con la congiuntivite ma si dai ragazzi la pandemia è stata due anni fa dai quando disse potete uscire per visitare una volta al giorno un congiunto che cazzo io non lo capivo che cazzo io ovviamente non ho mai visitato congiunti perché per una volta avevo la scusa di poter stare chiusi in casa senza uscire secondo voi io uscivo ma sto cazzo la pandemia è stata magica per quello finalmente potevo stare in casa mia a farmi i cazzi miei avevo la scusa perfetta senza che nessuno mi chiamasse pigro e secondo te io uscivo per congiunti ma vaffa 3 o 4 vabbè 3 o 4 il cazzo che è ma chi se voglio dire oramai il tempo vola cazzo timefly ti rendi conto eh che oramai siamo a ottobre e io ho fatto 36 anni da 4 mesi mi sembra ieri l'altro cosa succede qui è tutto sbagliato Bruno Barbieri come Andrea aspetta che mi metto un attimo qua a sedere ma cos'è Bruno 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 non ho aia porca merda eh ma Bruno anche te però ti metti a fare voglio dire il dondolino sulle sedie negli alberghi antichi è ucciso è AI no no è successa veramente sta scena non penso sia AI non trovo differenze epico ma anche se a me continui a ricordare più Giaffar però ognuno c'ha il suo la mia versione ha dato un nome a questi becine oh mio dio che cazzo è ma questa banana non va mangiata va data alle donne per divertirsi quando sono frustrate mangiare questa banana è un crimine cioè ma parte che sembra buonissima perché sembra così buona ma poi perché sembra così tanto un cazzo ma sembra troppo un cazzo guardandolo così dai cioè ma è troppo un cazzo non è possibile questa banana è un cazzo gigantesco cioè sbucciabile ma più che altro è enorme effettivamente sì però voglio sapere dove la dove 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 Haru mi sta uccidendo vai Haru non fermarti non so però sembra un sacco buona smettela di prendere libri a metà come osi far nascere mio figlio senza consenso veramente una cosa scandalosa come ti permetti di partorire senza che io ti abbia detto dato l'ok queste donne che partoriscono figli quando gli va invece di aspettare il via libera cioè verrà una cosa una cosa da risolvere vaffanculo bistecca la muka è rimasta molto perplessa ma almeno mettile un dito nel naso dai al naso gigante almeno fa le nel naso scusa voglio dire ho un carezzino ho un dito nell'orecchio scusa è tutto un orifizio si è offesa esatto ci è rimasta male farà latte acido per un assettivale esattamente quindi devi fare piano altrimenti sveglierai il mostro mortadella no devi fare piano è pericolosissimo mio dio ma stai veramente parlando del mostro mortadella quella leggenda bolognese che è falsa squid non è falsa ah sì adesso l'ore ah sì sì ma non è lo zio reginaldo ah sì mi metterò a urlare vediamo cosa succede ma mannaggia Bruno Bervieri squid per favore fermati siamo morti sì ma sembrano alcolizzati ah sì e tata Lucia è diventata ah 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 sti l'ho appena visto Adamo e Eva credo che la foglia sulle palle sia edera velenosa ah beh sì tranquillo che cosa facciamo oggi non lo so il tuo look è sexy dovresti indossarlo più spesso al lavoro ehi queste sono molestie sessuali oh quindi dovrei smettere sì tra circa diecimila anni ah posso beh credo c'è ancora tempo non c'è mica fretta abbiamo ancora tempo voglio dire allora ragazzi è normale mi sto venendo cura di lei no bolognesi alcolizzati neanche tanto in realtà cioè ci sono regioni con più alcolisti dei bolognesi il giusto in realtà cioè sì abbastanza ma non troppo umorismo olandese che è è sì non è non è sì 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 è ma come guarda che cosa è sì ovario è cosa pensi sì sì vabbiamo vabbiamo Che strontato, oh mio dio Che cagata GAY Viva la figa Sì, io, effettivamente Così, proprio così diceva il giudice Che Dio la benedico, ok? Io non me lo ricordavo così il video gioco Ma dai col mio nome Sono io, finished right, va bene, d'accordo L'accetto, tanto è figo, quindi non vedo quale sia il problema Entanto questo è il vero esatto Non me lo ricordavo così il gioco, però In Giappone un gruppo di scienziati Ha portato avanti questo esperimento Per far vedere quanto velocemente Si possa diffondere un virus Utilizzando il vaiolo su di loro per provare L'esperimento ha avuto sede dove si teneva Una festa durante una cena E alla fine di quest'ultima, per dimostrare i propri studi Spengono tutte le luci per accendere quelle a UV Scoprendo una realtà scioccante Erano tutti quanti ricoperti di sb... Ma quello solo perché il cuoco era particolare Quello era solo perché il cuoco Era una persona un po' alternativa Che amava condire i piatti Con una salsa molto strana Non era quello Vabbè, oh, che cazzo Molte piace come condimento Chi siamo noi per giudicare, scusate Chi ha il costume più buono Che carina Devo prendermi una papera Questa mi piace Anche questa Ma questo non è di Halloween Bisogna di 6.000 paperine Nel mio giardino Mica, papà e... Pai e Foucault Face Che scemo, non sei in serio Ma che bellina Voglio neanche io le paperine da vestire per Halloween Ho bisogno anche io di un sacco di paperine da vestire per Halloween Me ne comprerò una cinquantina Urakami Miura Salmone cotto Filadelfia Gheddafi ah 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 ecco dove era finito ah 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 è nei ristoranti giapponesi ecco dove era finito Gheddafi vedi che era sparito è nel tuo uracami vedi lo mettono nel su un pranzo pieno di petrolio scrivo 2 più 2 uguale a x risolvi x continui a rispondere 4 risponderai non ricoglionire ah gbd scusa 2 più 2 abbiamo l'intelligenza artificiale come la usiamo 2 più 2 fa 5 stupida intelligenza artificiale ah 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 ciao grazie per il 25 fa tantino ma tu sei andato avanti ah 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 Sì, ho saltissimo, madonna, adesso posso lanciarci più di... 2 più 2 uguale 5, me l'hanno detto, è vero! Non ho più un polmone. Io l'audio. Eh sì, eh, eh sì, eh sì, eh vabbè! Sì, eh, che cazzo è? La madonna di un'arma termonucleare! Che cazzo è quella roba! Le papere d'evoluzione. Sì, sì, è andata proprio così in realtà, è andata esattamente così. Lo sviluppo delle papere è proceduto esattamente in questa maniera. Andrea Le Papere. L'audio. Oh, scusate. Tornate qui brutti bastardi senza gloria! Adesso mi pappo delle vostre carni, Cristo! Ma in realtà no, cioè, mi limiterei a dargli un sacco di bacini a bracci, però questa volta sto sinceramente pensando di farmi sia il vaccino anti-covid sia l'anti-influenzale tutto insieme, prima di andare alla Games Week, onde evitare di essere unto da malattie varie che potrebbero essere trasmesse in quanto tutti sudaticci e appiccicaticci e ammassati tutti quanti insieme in un'unica area dove sputazzi e robe varie si diffondono abbastanza velocemente. La pubblicità degli anni Ottanta. Ranza il frattino! Taglia! Bota! Spronda! Basta! Quando il bocca è un po' troppo fosco Bocciatino è un casino! Di cosa stiamo parlando, scusate? Ogni forma dell'aewola Oggi è facile da votare Di cosa stiamo parlando, scusate? Cazzo, mi ricordo la canzone Ti ragerò, lei vuola Ovunque vedo un ciuffo L'affronto con decisione Con la motosega? Sarà anche un po' buffo Ma poi sai che figurone Ora voglio una vagina Con sopra due peli e due rose Il senso di vedere due rose Che sbucano dai peli di una vagina Rasa il frattino Rasa il frattino Se il perro è giusto Il cesto a posto Il cesto a posto Il bacio a posta Questa era veramente la Guarda che l'avevo già vista Rasa il frattino Se ti senti ruvidina Rasa il frattino Queste pubblicità erano bellissime Una bella spuntatina Rasa il frattino Dio rasoio tra l'altro Gli anni 80 erano straordinari Queste cose Non so, guarda No, guarda non lo so Il fatto che io non lavori Non significa che io non faccia niente tutto il giorno Io coltivo le mie passioni Ad esempio Sai quanto tempo ci sto impiegando E ci impiegherò A finire questo disegno? Tu hai idea Di che cosa significa Colorare tutto Senza uscire dai bordini Che imbecilo Eh vabbè Sì vabbè Ma dai ma si Ma non voglio dire Vabbè Vabbè ci sta Voglio dire Colorare senza uscire dai bordini Guarda che difficile Sembra facile Ma in realtà ci vuole un sacco di precisione Te lo dico Non è così semplice come sembra Altro che mec Oggi preparerò un panino più buono Di quello che mangiate al fast food Signora ma in che cazzo sta facendo friggere quella Ma che cos'è sta roba? Ma cos'è questa mucillaggine? Che cos'è quest'olio agricolo? Che cos'è quest'olio per motori industriali? Buono di quello che mangiate al fast food Sì meglio del panino del merDonald Per prima cosa Friggo una salsiccia in olio d'oliva Ma il petrolio d'oliva Ma è nero signora Come olio d'oliva scusi Tranquilli È nero perché ci ho messo un tocco di salsa di soia Ma che cazzo di idee scusi Ma che cazzo di idee Cosa di pece nera Alla base di un buon panino Sì C'è sempre dell'ottimo pane fresco Guarda la salsiccia sta esplodendo È una salsiccia atomica Ci metto anche un uovo Lo cucino tipo uovo alla benedicta Alla male di Un pizzico di sale Eh sì Ma lonna signor Mi metto un po' di più eh C'è la pressione a 400 E qualche erba aromatica La foglia di banano Non vedo l'ora di far mangiare questo panino al mio bambino Sì però muore Perché signora Questo panino Il bambino muore male Vede il panino telefono azzurro Che schifo Questa è una presa per il culo Che schifo Dio Sberla Ha fatto crack Occhio eh No non spingere Ma che ti scusano le mani Ti scivono Allora o inciampa sul cane e rompe il vetro Oppure come scende e rompe il vetro O lo appoggiano per terra e rompe il vetro Non avevo dubi Non era Snoop Dogg Eminem? Eminem Scooby 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 Doo Scooby Doo Sì è lui E lui è lui è Scooby Doo Scooby Dog Scooby Dog Oh mio Dio Ma come Scooby Dog Mi scusami Scooby Dog Ma che cazzo dici? Buon papà Questo amico di Piazza Verdi Mi è salita la pasticca del medie e me a zio Vedi conigli Ha curato Ha curato C'è anche a Bologna Ma bellissimo Ma anche in centro a Bologna ce n'è uno Bellissimo Devo entrare che lo vuoi È tutto pieno di paperine Le voglio tutte Io dopo Un secondo dopo Che mi chiedono Se so ballare Essere tipo Anch'io Vai tranquillo Ballo di merda Ho la mobilità di uno scafandro Però mi diverto quindi Questa è la tua ragazza Quando è arrabbiata con te E tu provi a toccarla Che carino Veramente perché i gatti graffiano quei bastardi maledetti Quindi anche se è bellissimo È un bastardo maledetto Un griscino Un fagoloso L'ho fatto io Facevano così i dinosauri Ma sei un idiota Sono stanco Non mi parla di tirar Molotov Senza tetto che mi vien da ridere Per favore Non dovrei ridere per queste cose Però sono stanco Mi viene da ridere Per cortesia Pov Sei a letto con lei E ti sale la voglia E voilà Schiaffa tutto dentro E quello che esce fuori Insaporisce l'esterno Ah sì? Insaporisce l'esterno Non sapevo Beh può essere Gli date una ciaccatina Sì sempre Quello sì Bisogna riempirla bene Perché così Concede Quello che c'è dentro Lo dà la carne Assolutamente Se non è farcita Adeguatamente Gli spot pubblicitari Del 2024 Anche tu Quando ti masturbi Sborri per tutta la camera Smerdandoti la pancia E scoprendo Che la sperma Da levare È un incubo Perché il fazzoletto Non levo un cazzo E la pancia Ti rimane appiccicaticce Quindi usi 18 pacchetti Non preoccuparti Kleenex Fazzoletti idonei A ogni tipo di eiaculazione Dalla più abbondante A la più sottile Usali quanto vuoi Non temere Lo sporco più sporco Sparirà in men che non si dica E tornerai a masturbarti Il tuo bel cazzone Prima ancora Che te ne possa rendere conto Ah 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 Ora voglio di comprarmi Dei Kleenex però Ah 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 Un matrimonio gay Non avrebbe Ah 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 La 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 Spanky aveva ora Una nuova forma di rispetto Per Xander Così capì che due uomini Possono essere come un uomo E una donna E che forse Dico forse Un piccolo matrimonio gay Non avrebbe rovinato il mondo Ah 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 e quindi Ah Ah, l'ho sempre saputo Che i matrimoni gay Avrebbero portato All'ascesa Dei T-rex Nazisti Al ritorno Del tertarino Lo immaginavo in realtà Cioè è una cosa Che uno Uno Pensa Beh ci sta Ci sta Uno dice Non succede niente E invece vedi Vedi Ci saranno nazisti Che cavalcano T-rex Era lampante Come hai fatto Non ho capito Dragon Ball nostalgico questo l'ho già visto di Dragon Ball io so che tu lo sai Dragon Ball perché non c'è un blago che sia grande come te questo ragazzo è un tavolo al fronte What is your destiny, Dragon Ball What is your destiny, Dragon Ball io so che tu lo sai Dragon Ball perché non c'è un blago che sia grande come te What is your destiny, Dragon Ball Vabbè sì, divenne a fare le onde energetiche con le braccia tene questa la cantavano i soldati in abissinia questa l'abbiamo già vista questa che cazzo è quindi devi fare non è l'ora che mi metterò avanti perché il bolognese l'abbiamo già visto quindi vado avanti mannaggia c'è questo attenzione cosa sta un vantagno bocchino Ludo scusami c'è il bolognese nel fantasma mortadella a Napoli c'è il fantasma bocchino non ho capito potenza del fantasma pizza c'è il fantasma pastiera c'è il fantasma bocchino a Napoli mamma ronna dolorata ma bocchino proprio come quella che mi ha fatto quella bocchino mamma te e io amo Squiddy ora sono Gratinetti e vediamo come faccio sto sfaccendo il fantasma Squiddy mi piace il clarinetto è peggio il fantasma mi piace il Spongebob in Napoletano è su peggio ma fai piano Squiddy da queste parti si gira il fantasma Terone figa Terone Terone come quelli che abbiamo scacciato tipo 50 anni fa Spongebob ce ne stanno ancora ma la c'è perà Spongebob non esiste più nessun Terone guarda che chiamarli proprio così li attira ancora di più e tu ah si non sapevo tu ero figa non sapevo fosse un ricchiato non è inclusività questa ecco parliamo di cose serie che non ho capito un cazzo di quello che ha detto il coso ieri mi son mangiato otto etti di carne però adesso ho di nuovo voglia di carne il fantasma Buccino mi ha proprio lasciato a bocca aperta tanto di giro ora ho voglio di hamburger ti ringrazio gentilissimo bravo grazie mille qui c'è la mia ah c'è la mia cover ok aspetto un attimo che allora per me ti ascolto la cover devo grazie mille scusate mi era venuto voglia dello yogurt muller avete presente no quello del muller scopatevi i parenti quello fate l'amore quello di sapori insomma quella roba è in 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 Grazie a tutti. 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 L'ho letto, l'ho letto oggi. Scusa, mi sono dimenticato di risponderti. Dopo ti rispondo per bene, Aaron. Ma non spari i fulmini. Che cazzo te l'ha detto? Le railgun si possono costruire senza problemi. Mi servono delle batterie gigantesche magari da portarmi dietro, però quello lascia perdere. Il fulmine si può produrre senza il fulmine si può produrre senza alcun tipo di problema. Allora, sono le 23 e 18. Io mi fermo qua con il Reddit che devo andare un attimo in bagno e arrivo subito. Scusate! Scusate! Non mi puoi imparare, ma la vostra scuola è... Oltre. Scusate! Scusate! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.